Non è la prima volta che Micolo Livieri si trova presa di mira dal web. L'ultimo episodio era chiuso in un messaggio il cui contenuto recitava. Ti sei ingrassata tanti. Soprattutto diga. Ma fa nulla. Bella sempre. Parole forti che toccherebbe un po' tutti nell'intimo e che hanno portato l'ex attrice, oggi influencer, a registrare un video messaggio, condiviso poi su social ha voluto parlare a qua. Parole forti che toccherebbe un po'. Sto vivendo un momento un po' di combutta con il mio corpo, ha spiegato la romana, una vecchia storia che dura da tantissimi anni, io mi sto prendendo cura del mio corpo ma non risponde e non sto vivendo un momento un po' di combutta con il mio corpo e da lì è partita una lunga riflessione, io amo infinitamente il cibo e non farei mai dei digiuni e per me è fondamentale essere in salute tante altre ragazze però, questa non è una prerogativa e da lì è partita una lunga riflessione, io amo infinitamente il cibo e non farei mai dei digiuni e per me è fondamentale essere in salute tante altre ragazze però, questa non è una prerogativa e da lì è partita. Ed infine un messaggio rivolto alle donne, con la speranza, di aiutarvi a non cadere mai negli inganni di quella che sembra la strada più semplice, un post condiviso da Micola Andrea Maria Olivieri Chiocciola Micola Olivieri sotto le